Musica Venerdì 30 dicembre, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul nostro canale, il canale 17, che anche nei prossimi giorni, segnatevi questa data, il 12 di gennaio, sarà una data importante, poi vi diremo anche il perché, chiaramente è una data importante per chi ci segue, e allora vi diremo il perché, vi diremo anche cosa fare, perché il 12 di gennaio Fano TV diventerà regionale, quindi avremo dei cambiamenti dal punto di vista tecnico. Adesso però andiamo a vedere il santo di oggi, un santo che si chiama, che è un beato, Giovanni Maria Boccardo, ma è anche l'ottava di Natale, Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Il sole è sorto alle 7.41, tramonterà alle 16.40. Vediamo il bollettino meteo di oggi, le previsioni della protezione civile delle Marche. Oggi avremo un cielo sereno o poco ruvoloso, per residui e deboli stratificazioni basse sui settori meridionali della regione. Le temperature minime sono in marcata diminuzione, con diffuse gelate sui settori montani e collinari, le massime invece sono senza variazioni di rilievo. I venti soffieranno da settentrione in modo moderato, con raffiche di vento fino a diventare teso, in rotazione nel corso della giornata da nord-est verso nord-ovest. Domani, ultimo giorno di questo 2016, 31 dicembre, come sarà l'ultimo giorno dell'anno? Sarà sereno o poco nuvoloso per addensamenti stratiformi che dalla fascia costiera transiteranno verso l'interno. Le temperature minime sono in aumento sui settori montani, in ulteriore lieve diminuzioni invece altrove. Dunque sarà un capodanno, un ultimo dell'anno, soprattutto chi lo festeggerà fuori all'aperto in piazza, un capodanno rigido con temperature fredde durante la notte, per chi brinderà appunto e stapperà lo spumante a mezzanotte all'aperto. I venti sono nord-orientali di Brezza Tesa. Per quanto riguarda la giornata del primo di gennaio, quella del primo giorno dell'anno del 2017, ancora, vedete, cielo sereno o al più poco nuvoloso, ma soprattutto nell'entroterra, le temperature sono in lieve ripresa, i venti sono di Brezza Leggero o Brezza Tesa. Per il resto non ci sono altre segnalazioni da fare, se non che durante la prima parte della prossima settimana, quindi i primi giorni del 2017, ci saranno caratterizzati da questo transito di una debole saccatura che determinerà un probabile temporaneo peggioramento del tempo durante la giornata di martedì. Questo però è il tempo, una cosa tutto sommato molto ancora tranquilla, che durerà ancora per i prossimi giorni. Adesso andiamo a leggere i giornali. C'è un sacco di gente comunque a letto con l'influenza, un'influenza piuttosto aggressiva, anche quelli che hanno fatto il vaccino e che si sono vaccinati sono comunque in gran parte a letto. I vaccini sono finiti, sono terminati. Ne parla il Corriere Adriatico questa mattina sulla pagina di Pesaro. Vedete, influenza casi record, non si trova il vaccino. I medici dicono che il virus è violento ed è arrivato anche in anticipo. Il picco è atteso per la fine di gennaio. La prima ondata di influenza ha messo a letto centinaia e centinaia di pesaresi, ma quando si dice pesaresi, chiaramente in questi casi si intende una vasta popolazione, un vasto territorio, una forma definita violenta dagli esperti. I medici di base sono oberati di richieste, così come i farmacisti e persino i sanitari del 118. Anche sui social in tanti scattano foto di termometri con temperature sopra i 39 gradi o scrivono di essere appunto a letto malati. La foto invece è per questo combattente che è tornato in Siria. È un giovane attivista di Senigallia che guida una brigata internazionale, si chiama Karim, e adesso rilancia una sfida all'Isis. E sempre sulla pagina principale del Corriere Adriatico, anche lo sport, con il Fano, il Fano Calcio, l'Alma Juventus, che ci prova a Sant'Arcangelo e dove in palio ci sono davvero dei punti preziosi, dei punti d'oro. Sulla seconda pagina del Corriere Adriatico, la caccia ai furbetti della sosta. Un pesarese su 10 viene sanzionato. A fine anno saranno 10.000 le multe elevate dagli ausiliari del traffico. Il gettito per il Comune per Pesaro e Parcheggi è di 2.400.000 euro. Tanto infatti il Comune di Pesaro incasserà alla fine dalle infrazioni al codice della strada. Mentre per ogni sanzione il Comune di Pesaro versa 5,93 euro alla Pesaro Parcheggi. Per il 2016 il corrispettivo totale sarà di 62.000 euro. Per quanto riguarda invece lo smog, decisione saggia direi quella del Comune di Pesaro perché ha deciso di stringere i rubinetti, di avviare appunto una stretta importante, quella di vietare la circolazione ai mezzi più vecchi. L'ordinanza serve naturalmente per contrastare il picco delle polveri sottili. Il divieto di circolazione nella zona blu tra il centro e il mare viene steso dunque a 24 ore. Dicevamo dell'influenza, influenza record, un'epidemia in crescita. Questo virus che ha colpito prima del previsto, come dicevamo, è anche in modo violento. Anche i vaccinati sono a letto con la febbre, ci sono code in farmacia, file addirittura al pronto soccorso. Mentre Massimo Agostini, che in questa fotografia fa vedere proprio il momento in cui si è vaccinato anche quest'anno, dice la campagna è andata bene, c'è fiducia dopo tanta disaffezione. Ricorderete, negli anni passati tanta gente aveva deciso di non vaccinarsi più, anche per tutta una serie di notizie che avevano cominciato a circolare. A Fano la percentuale è passata dal 60% del 2013-2014 al 53% del 2015-2016, con 17.493 vaccinati su una popolazione di 33.457 che hanno più di 65 anni. E poi il giornale giustamente dà i consigli, quello di stare a riposo, idrettarsi bevendo acqua. Vanno bene gli antipiretici, però attenzione a non prendere, evitare gli antibiotici. Rivaniamo in tema di sanità perché a pagina 5, sempre sul Corriere di Oggi, si parla di quella sanità però a livello di numeri, di carte, di bilanci. Si parla poi tra l'altro di azienda sanitaria Marche Nord, il budget, le assunzioni. Il nuovo ospedale monopolizzerà questi temi, monopolizzeranno il Consiglio Comunale di Pesaro che è fissato per il 23 di gennaio con la presenza del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, e il direttore generale dell'azienda Maria Capalbo. La richiesta era stata avanzata di 5 Stelle ma finora era rimasta disattesa, non senza polemiche. A Fossombrone come diventerà con la riforma? La Regione illustra la nuova struttura di comunità, l'ospedale di comunità di Fossombrone. La Regione ha presentato la sua carta di identità, 30 posti letto di cure intermedie, più 20 in via di attivazione, 10 di ospice e 10 di riabilitazione estensiva. La pagina di Fano invece è dedicata al bilancio che ieri la Giunta ha fatto con i giornalisti, scegliendo quest'anno di fare questa conferenza di fine anno all'interno di uno dei due locali che è stato dato le fiamme da uno squilibrato più di un mese fa, un mese e mezzo fa, allora si è parlato di sicurezza, si è parlato di sociale e anche di cantieri. E' stato un anno scoppietante, dice il Sindaco Massimo Seri, la Giunta saluta il 2016, ora ci saranno nuove telecamere, lotta alla povertà e ancora tanti lavori da effettuare per migliorare la città. Fiora all'occhiello l'asfaltatura di 60 km di strade con riduzione dei risarcimenti per i danni. E adesso invece l'altra pagina del Corriere Adriatico, la rocca malatestiana che passa da 90 a 800 posti, fruibilità interna decuplicata con la nuova uscita di sicurezza, dunque è un bene monumentale questa rocca straordinaria, stupenda che fino adesso poteva ospitare se no un centinaio di persone, ma con questi aggiustamenti anche dal punto di vista della sicurezza potrà addirittura ospitare, non dico quasi mille persone, ma insomma 800 posti, sono davvero tutta un'altra sinfonia. Ai passeggi invece arriveranno altri 20 mila euro per migliorare i giochi, il Comune infatti ha messo in opera due strutture ludiche e lavora sulle torri scivolo. La piscina, Dini Salvalai, l'unica piscina che abbiamo a Fano, purtroppo è disgraziata, bisognerà farla benedire questa piscina perché si è chiusa di nuovo, è stata chiusa di nuovo, non c'è pace per la Dini Salvalai, c'è questa volta un intoppo nella valvola, l'allarme del bagnino alle 6, sul posto sono arrivati i vigili, Mattutini dice problema occasionale, oggi comunque riapriamo. Sarà un ultimo dell'anno, SUP con Mare Dentro, siamo a Fano, cappello da Babbo Natale, gelide acque da solcare, partendo da Marina dei Cesari, dunque Babbo Natale che sfideranno le onde e il maltempo a bordo appunto del SUP. Poi c'è la veglia per la pace con il vescovo di Fano Trasarti, la diocesi insieme alla Caritas e ai giovani dell'azione cattolica italiana promuovono la veglia per la pace che arriva alla sua 27esima edizione, l'appuntamento è per sabato 14 gennaio a partire dalle ore 21 alla cattedrale del Duomo di Fano. La pagina è della Valle del Cesano, comune unico, ecco come cambiano tutte le strade, così terre roveresche eviterà doppioni, stesse scuole, più personale disponibile, le strade avranno come aggiunta il nome del vecchio municipio d'appartenenza. E a Mondolfo invece Nicola Barbieri, il sindaco che vedete in questa fotografia, ha firmato l'ordinanza che vieta anche in tutto il Comune di Mondolfo i botti dell'ultimo dell'anno, il sindaco all'Unione, abbiamo dovuto aspettare il via libera della prefettura. E poi dai Paesi Bassi, siamo a San Lorenzo in campo, dai Paesi Bassi a San Lorenzo e il camping diventa un reality. Una famiglia olandese ha aperto una struttura turistica in zona Ganga, la TV racconterà la loro storia, vedete la troupe mentre appunto sta girando questo reality, mentre sotto la cronaca da Bolognola scivola sul ghiaccio e sviene, soccorso in eleambulanza. È successo alle 16.30 a Punta Bambucerta e a farne le spese Roberto Zenobi, residente a Mondolfo di 41 anni. Da Senigallia invece cresce il popolo dei Senzatetto, alla Caritas, posti in corridoio, restyling alla copertura della struttura ad inizio gennaio, problemi per i tanti ospiti. Un uomo è arrivato in extremis, ospitato contravvenendo alle disposizioni. Vedete i vandali in tutto il mondo e Paese, anche a Senigallia, insomma, non sono da meno. Fatta a pezzi la panchina in via San Martino nel centro storico. Guardate come l'hanno ridotta. Da Pesaro invece, ieri è stata una giornata di roghi, i vigili del fuoco sono stati impegnati in due incendi, in due case diverse. Ore di paura, un cortocircuito di una vecchia televisione ha innescato un incendio nella zona di Piazza Redi. Nella notte invece il fuoco era divampato in un appartamento a Santa Maria dell'Arzilla. Le immagini di Santa Maria dell'Arzilla ve le abbiamo fatte vedere ieri nel corso del telegiornale. Quelle di Piazza Redi, un altro nostro segnalatore, e su questo vi ringraziamo perché stanno arrivando anche tante segnalazioni da Pesaro, il che significa che ci seguono con piacere anche da là. Sono arrivate un po' tardi in redazione, quindi ieri sera nel telegiornale non abbiamo fatto in tempo a farvele vedere. Andiamo e ripartiamo da questi incendi, passando però al resto del Carlino. Vedete appartamento in fiamme per cortocircuito, come abbiamo detto il primo nella notte a Santa Maria dell'Arzilla e il secondo in Piazza Redi. Più che le fiamme è stato il fumo ad aver provocato i danni maggiori. Poi scuffia, come si dice in gergo marinaresco e cade in mare, trentenne rischia il congelamento, è stato salvato e portato in ospedale. Si trovava sotto la falesia del San Bartolo. Un ciclista è stato centrato in curva da un'auto salvo. Si tratta di un incidente che è avvenuto ieri mattina lungo la strada che da Tavuglia scende verso San Giovanni in Marignano. Queste sono le fotografie. Poi ci sono stati altri incidenti in rotatorie e nella zona del mare, dove è intervenuta non solo l'ambulanza, quindi il 118, ma anche l'elicottero e la polizia, chiaramente la polizia municipale. La notizia invece da Fano, eccola qua. Parla Paci, un'intervista a Maurizio Gennari questa mattina sul giornale, sul resto del Carlino. Paci che dice dateci più spazi oppure ce ne andiamo. È un ultimatum di due mesi ai burocrati. Perché Giancarlo Paci, che è il fondatore della Profilglas di Fano, la più grande azienda di profilati in alluminio d'Europa, perché chiede più spazio? Perché hanno bisogno di costruire e di produrre di più, più alluminio. Perché? Lo dice, risponde alla domanda di Gennari, non si trovano i terreni. No, il problema non sono i terreni di Paci, perché le aree industriali ci sono. Il problema riguarda i permessi. Ci dicono che va bene, faremo e vedremo, ma alla fine non accade nulla. E questo è stato di cose per noi che facciamo imprese, giustamente. Non ce lo possiamo permettere, non va bene. Perché stiamo lavorando, pensate, la Profilglas, il gruppo Fiat, chiede di produrre alla Profilglas di più, però dice noi non siamo in grado di farlo e quindi non possiamo aspettare la politica. Perché in alcuni casi, sappiamo, in tantissimi casi, in miliardi di casi, verrebbe da dire, poi mi fermo qua, se no poi mi metto il malumore, la politica tante volte fa scelte sbagliate che mettono in ginocchio gli imprenditori e le aziende. Andiamo a vedere invece le due pagine, guardate qua, le due pagine del resto del Carlino dedicate al report di fine anno della giunta seri. Si parla un po' di tutto, dalle telecamere, qua sopra vedete, presto altre dieci telecamere, fino all'interquartieri che è stato inaugurato poco fa, oppure i lavori d'asfalto che hanno prodotto meno cause di gente che appunto si fa meno male cadendo sulle strade disastrate, lo erano fino a qualche mese fa, quindi nuove strade, strade più sicure e dunque meno gente che chiede rimborsi al comune, chiede risarcimento soprattutto, non rimborsi, risarcimento danni. L'ospedale cale il silenzio invece, questa è l'unica nota dolente, credo, per la giunta di Massimo Seri, Seri esalta il bilancio delle attività, ma dimentica le questioni più importanti come anche l'aeroporto. Comunque alla fine Massimo Seri dice che la giunta si fa la festa, questo è il titolo del giornale di questa mattina. Poi chiudiamo con una pagina triste, è quella pagina 14, Fanno e Valle del Cesano, una fotografia che in tanti ricorderanno, è quella di una coppia sorridente, una coppia felice, le mani vedete sul grembo, Carmen Zazzaro con Francesco Miro. La donna è deceduta il 10 agosto scorso alla Santa Croce, aveva 24 anni ed era andata all'ospedale di Fano per partorire il secondo figlio. Quando è arrivata il figlio, le hanno detto i medici, è già morto, era già morto, lei è entrata comunque in sala parto e qualcosa lì è andato storto e lei è morta poco dopo. Ebbene adesso parla Francesco Miro e dice ancora una volta perché mia moglie non c'è più, vuole sapere perché, il marito vuole sapere perché la moglie è deceduta con il feto che aveva in grembo. E l'altra notizia triste, arriva da Monteporzio, un incidente, era stato dichiarato non in pericolo di vita, un 43enne che aveva fatto un incidente l'8 dicembre scorso davanti all'Eurospin, Tristano Bruschi, un incidente appunto a Monteporzio, non ce l'ha fatta, è morto. L'uomo sposato senza figli è residente a Tre Castelli in località Ripe, era stato trasferito nell'ambulanza all'ospedale di Torretta in prognosi riservata dai traumi riportati. Come dicevo non era stato dichiarato in pericolo di vita, però purtroppo Tristano è deceduto nel tardo pomeriggio di mercoledì e adesso sulla salma, posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, sarà effettuata l'autopsia che dovrà stabilire appunto le cause di questo decesso. La rassegna stampa si chiude qui, Occhio ai giornali torna domani mattina per l'ultima rassegna di questo 2016, questa sera invece come al solito ci sarà il nostro telegiornale con tutte le notizie del giorno alle 20 e 30 e vi ricordo che per le vostre segnalazioni, che per noi sono sempre importantissime, c'è il nostro numero 338 4968 250 che potete utilizzare anche con WhatsApp per mandarci le vostre segnalazioni, quindi i vostri testi oppure foto e video e quindi grazie davvero per la vostra collaborazione. Ci diamo una mano a vicenda e quindi voi ci segnalate, noi verifichiamo e poi informiamo tutti gli altri e tutti voi telespettatori. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.